C'è anche un sotto ufficiale della guardia costiera tra gli arrestati dell'operazione antidroga homemade, portata avanti all'alba di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento e della compagnia di Licata, che ha permesso di mettere in luce un presunto giro di droga, di marijuana e qualche volta anche di cocaina. Il tutto si sviluppava tra le piazze della Movida di Licata, Messina e Catania. Stamane l'esecuzione di nuove misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale procura nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti nel giro di droga e responsabili a vario titolo in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questi quattro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, quattro al divieto di dimora e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dei quattro domiciliati due sono Licatesi, Marco Cavaleri e Agostino Curella di 32 e 35 anni. Uno è originario di Palma di Montechiaro, trattasi di Angelo Manganello di 42 anni e infine Marco Ucciardello, 34enne, messinese di origine ma residente a Licata che è un sotto ufficiale della Guardia Costiera. I divietti di dimora firmati dal GIP riguardano due italiani, un marocchino ed un egiziano regolarmente residenti a Licata. Licatese è anche una trentenne per la quale è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il blitz ha coinvolto circa 50 carabinieri del comando provinciale di Agrigento supportati dalle unità cinofile dell'arma. Homemade, tradotto, significa fatto in casa. Il nome dell'operazione è stato scelto in quanto i soci dell'attività criminosa, secondo gli investigatori, coltivavano direttamente piante di marijuana per poi vendere lo stupefacente dal produttore direttamente al consumatore tra le province siciliane. L'attività investigativa è stata portata avanti attraverso intercettazioni e pedinamenti che hanno documentato, agli occhi degli inquirenti, le modalità di approvvigionamento della marijuana e la successiva vendita al dettaglio tra giovanissimi. La scoperta più importante riguarda il rinvenimento di una piantagione dello stupefacente incontrata Giacobbe di Licata. L'estensione della serra, realizzata con rivestimento in plastica opacizzata, è pari a circa 3.000 metri quadri. Al suo interno i carabinieri hanno trovato circa 2.800 piante di marijuana di un'altezza media di 4,5 metri. I militari avrebbero accertato come, grazie a strette amicizie con personaggi del Catanese, i coinvolti nell'operazione sono riusciti a smerciare nella piazza etnea circa 7 chili di marijuana.